Un omicidio efferato, quello di Thomas Christopher Luciani, 17 anni da compiere. Il ragazzo, residente a Rosciano, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato raggiunto da 25 coltellate. Il corpo della vittima è stato trovato ieri sera intorno alle 23 all'interno del parco Baden-Pau alla Pescara. Sempre secondo la ricostruzione, nel tardo pomeriggio, un gruppo di 7-8 ragazzi ha raggiunto il parco. Due di loro sono entrati e hanno incontrato il sedicenne. Raggiunta una zona non sorvegliata, lo hanno colpito ripetutamente con un coltello, presumibilmente da sub, viste le lesioni riportate dal ragazzo. All'origine dei fatti un debito di droga di poche centinaia di euro. Dopo averlo abbandonato tra le sterpaglie, i due si sono allontanati. Il gruppo quindi è andato al mare, in uno stabilimento balneare del centro. Stando alle testimonianze raccolte, il coltello sarebbe stato abbandonato, forse in mare. I sommozzatori e i vigili del fuoco hanno scandagliato i fondali, per ora senza esito. A lanciare l'allarme sull'omicidio di Tomas Luciani sarebbe stato uno dei giovani che faceva parte del gruppo, insieme ai due indagati. A quel punto il rinvenimento del cadavere e l'avvio delle indagini, che in poche ore hanno consentito di individuare i presunti responsabili. I due fermati, anch'essi minorenni e liceali, sono il figlio di un avvocata e il figlio di un barasciallo comandante di una stazione locale di un comune del Pescarese. Determinante nel lavoro certosino condotto dagli investigatori della squadra mobile, diretti dal vice capo Mauro Sablone, oltre alle testimonianze anche la visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti al parco e allo stabilimento balneare. Da fonti investigative, i due ragazzi fermati non avrebbero tradito emozioni durante il primo interrogatorio. In sostanza c'è stata assenza di empatia emotiva o pentimento. Nei prossimi giorni si vedrà se a determinare questo stato è lo shock o se ci saranno cambiamenti emotivi. Le indagini sono coordinate dal capo della procura per i minorenni dell'Aquila, Davide Mancini, e dal sostituto Angela Degidio, che ieri hanno fatto un sopralluogo nella zona dove è maturato l'omicidio. I due ragazzi sono in stato di fermo in un centro di prima accoglienza. Entro quattro giorni ci sarà l'udienza di convalida. Qualche mese fa, infine, Thomas fu protagonista di un altro episodio di cronaca. Nel novembre del 2023, infatti, si allontanò dall'abitazione di famiglia. Subito scattò la denuncia dei genitori. Il ragazzo venne ritrovato dopo poche ore in buono stato di salute a Pescara.